Qualche giorno fa mi è arrivato questo computer, sì, è un mini computer ed è stato progettato, assemblato e non solo anche installato tutti i programmi eccetera eccetera come adesso vedremo da uno studente di informatica, si chiama Fabio Di Stefano, il quale ha fatto un sacco di cose interessanti perché il manuale di istruzioni l'ho letto e scritto veramente molto bene, in maniera molto professionale, diciamo che non mi sembra neanche uno studente, non solo ero talmente entusiasta che il secondo giorno subito l'ho detto a mio figlio Adam che è appassionato di queste cose che mi è arrivato un mini computer Raspberry Pi e subito l'abbiamo acceso io lui e siccome lui è uno smanettone allora ho detto vabbè facciamo una cosa, copio tutto il contenuto della micro sd su un'altra micro sd poi gli do il computer fa quello che vuole e poi dopo faccio io la recensione per evitare che mi smanetti e cambi le cose e mi ha sorpreso davvero quanto era facile fare questa cosa qui perché sono andato qui negli accessori e ho cliccato su sd card copier e ho copiato il contenuto della micro sd che contiene tutto il sistema operativo su un'altra micro sd messa in una di queste quattro porte usb ma perché vi sto raccontando questo perché mi è piaciuta tantissimo l'idea di fabio è vero ci sono adesso in questo momento altri computer Raspberry Pi che potete comprare a 100 euro a 60 70 euro anche ma sono tutti da assemblare personalmente che è divertente e anche istruttivo ma ci saranno anche tutti i programmi tutte le conoscenze che dovrete mettere all'interno per costruire un computer intero e l'idea di fabio che ha costruito questo computer qua e fornire un computer accessibile a tutti del costo esiguo ma molto facile anche da utilizzare che si può utilizzare per un sacco di applicazioni per word excel che sono già installati all'interno per vedere video per ascoltare musica per videogiochi semplici ovviamente però si può anche già installato dentro dei videogiochi ma si può fare quasi di tutto ovviamente non ha delle prestazioni di un computer da 500 euro da 1000 euro però comunque si può fare di tutto specialmente a livello didattico questo computer arriva con il suo manuale di istruzioni completo in italiano si chiama solo e c'è scritto tutto quello che vi serve per collegarlo e farlo funzionare arriva anche con il suo alimentatore da 5 volt 3 ampere con connettore usbc ma una volta arrestato il sistema per evitare che rimanga acceso abbiamo anche un bottone per togliere l'alimentazione questo computer è basato sull'ultima scheda raspberry pi 4b ea 4 giga di memoria e 128 giga di ssd dove c'è il sistema operativo tutte le nostre cose ovviamente questa è la scheda di mio figlio adam con tutte le sue cose e questa è la scheda del mio sistema operativo originale che arriva con il solo e devo dire che questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché questo computer si può utilizzare in tante persone per esempio nella stessa casa ognuno con il suo sistema operativo con le sue personalizzazioni con i suoi file eccetera eccetera e basta prendere la schedina e metterla nella tasca nel portafoglio e avete tutti i dati tutto il sistema operativo tutte le vostre cose lì dentro oltre allo slot micro sd il computer ha due porte usb 2 e due porte usb 3 e una porta lan oltre alle connessioni wireless perché integra anche una scheda wifi sia 5 gigahertz e mi ha impressionato questa cosa non pensavo e anche 2,5 gigahertz ha anche il bluetooth che si può sfruttare sia per collegare una tastiera o anche un mouse bluetooth o si può anche collegare una cassa esterna come ho appena fatto adesso vi faccio vedere e si può sfruttare ovviamente per un sacco di cose arriva anche con un cavetto hdmi micro hdmi che si collega a una delle porte hdmi perché questo computer permette anche di collegare due schermi addirittura che si possono replicare o estendere a piacere nostro infatti come potete notare qui abbiamo due porte hdmi accanto alla porta hdmi abbiamo una porta jack da 3,5 per l'uscita audio analogico eventualmente se non vogliamo utilizzare direttamente l'uscita audio hdmi ma se il nostro schermo integra degli altoparlanti o addirittura se uno non ha uno schermo basta collegarlo via hdmi a qualsiasi televisore e abbiamo un computer una tastiera costa veramente poco anche a 5 euro si può procurarsi una tastiera e un mouse lo stesso ce ne sono a bizzeffe che siano wireless o anche con il filo tra l'altro non è neanche necessario utilizzare il suo alimentatore originale basta avere un qualsiasi alimentatore usb c che ha un'uscita che supporta 3 ampere e vi faccio vedere quanto ci mette ad avviarsi questo piccolo computer adesso l'ho appena acceso vediamo quanto ci mette nel frattempo collego il mio mouse e la mia tastiera alle porte usb ed è avviato la password di default è solo e andiamo siamo avviati e cambiamo un po' le preferenze accendo questa cassa bluetooth adesso vi faccio vedere anche l'audio viene trasmesso via bluetooth direttamente ovviamente non si può pretendere una super velocità da questo computer però come potete notare ha lanciato il browser chromium molto velocemente cerchiamo sindrome da shopping entriamo nel canale andiamo a scegliere un video e vediamo quanto ci mette a caricare la pagina e con non ci mette poco ovviamente qua abbiamo uno schermo molto grande però comunque fa il suo lavoro vediamo il task manager per vedere quanto sta utilizzando la cpu 65 per cento la memoria 473 mega su 4 giga ecco vediamo che risoluzione riesce a sopportare con un video da youtube senza laggare adesso ho scelto 1080p ecco come potete notare lagga un pochino con 1080 proviamo 720p a vedere se ecco adesso 720p ecco un po meglio sicuramente vediamo che programmi ha installato fabio all'interno come potete notare si può lavorare tranquillamente con libre office cioè sia il foglio di calcolo anche il disegno abbiamo anche la matematica o anche il writer come word esattamente e ci mette poco anche a caricarsi per un computer del genere si può scrivere tranquillamente vedete che non non ci sono leggo altro si può compilare la tesi fare quello che si vuole con pochissimi soldi utilizzando anche uno schermo che si ha a disposizione ha installato anche un sacco di programmi per la programmazione si può utilizzare un programma gratuito per la gestione della posta elettronica se non si vuole utilizzare il browser direttamente ci sono un bel po di cose di grafica ci sono anche un po di giochi molto divertenti con i quali abbiamo giocato io e adam per esempio questo gioco è molto divertente dove dovresti andare col coniglio ad evitare che lo schiaccino o vada l'acqua ecco ci sono davvero dei abbiamo anche minecraft installata però ho provato a farla partire non parte e adam era molto curioso di vedere come va minecraft su pai invece non va non so perché oltre ai programmi installati ovviamente possiamo installare un sacco di altri programmi open source insomma l'idea mi è piaciuta tantissimo per due motivi il primo perché qui abbiamo un prodotto molto utile già installato già pronto per utilizzarlo in modo produttivo e il secondo è che un sistema del genere per esempio da regalare a un bambino uno sbanettone come adam ecco potrebbe imparare un sacco di cose con questo senza rovinare niente a un costo bassissimo oltre a imparare anche sui sistemi open source che supporto e appoggio come al solito vi lascio il link e coupon sconto offerto da fabio che ringrazio per questo prodotto meraviglioso nella descrizione del video ma potete anche cliccare qua nel frattempo vi saluto e ciao alla prossima